Ringraziamento e messaggio a Maura Gancitano. Grazie per aver fatto togliere il mio video, che era un'accusa che oggi non è più reperibile e richiesta perché ne venga fatto togliere un altro. Chiedo a questa giovane donna così convincente di far togliere da Facebook qualunque intervento che non io, che ho sbagliato, ma un illustre virologo come il professor Bassetti ha diffuso per far sapere che il virus non era pericoloso e che era una forma di allarmismo quello che da ogni parte abbiamo sentito e che oggi ha convinto anche me. Vi ringrazio per aver fatto togliere il mio video e vorrei che potessero togliere anche il video con l'intervista al professor Bassetti, la cui responsabilità e la cui autorevolezza è di gran lunga superiore alla mia. Grazie, grazie, grazie.